Siamo qui al teatro Nadur per lo spettacolo dei soliti tappi Antonio Manganiele e Luca Sepe e qui con noi l'ospite della serata Lady Satin Ma buonasera a tutti i nostri ascoltatori e televisivi ovviamente perché in questo caso ci stanno guardando Come so cara tu lo sai Benissimo sei bellissima Sei molto bene Semplice amo la semplicità di la verità dimmi tutto dimmi Allora l'emozione comincia a sentirsi tra poco sarai sul palco Non vedo l'ora di adesso di andare sul palco di scaricare tutta l'attenzione ovviamente e dare il massimo per il nostro pubblico che è numerosissimo Sì infatti si è registrato il tutto esaurito Il pubblico vi ama molto che cosa ne pensi? Sono felicissima perché alla fine la soddisfazione più grande è proprio che il nostro pubblico ci segue nelle varie serate Che in un teatro come questo che è stupendo fidatevi è stupendo è pieno 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 Ha risposto molto bene Allora ti facciamogli un bocca al lupo per la tua esibizione Crepi crepi E facciamo un saluto a tutti i lettori di Street News Un bacio glitteratissimo e un saluto glitteratissimo a tutti gli ascoltatori di Street News dalla vostra Lady Sati Ciao Grazie Ciao